A, 2 pugni, ok, io guido il radiamento del tanto, lui deve eseguire me, che io non posso fare così, con due parti, top, top, io lo metto dietro, pam, pam, è nel più da cercarci, ecco, non si può fare se non c'è colpito, devi sempre aspettare l'altro, 1, 2, 3, 1, che io dopo questo, lui non viene colpito, non deve far niente, deve far niente, dopo altro, non ci sarà, ok, 1, 2, 3, 1, i pugni si possono avviare al massimo, mi alzino, 30 per 100 minuti, io guardavo che tu non si deve, ok, ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, E' un po' la difesa se la viene. Certamente volete tenere qui, lui attacca, difesa riusa, poi non devo tenere staccato se non mi fa fare questo. E' molto importante, questo. Quindi è difficile vederlo, perchè lo ha messo in una punta. E' un po' così, perchè questo è quasi impossibile. Quindi o lo incasso, o lo subisco, o lì è stato un po' così. Il primo lo parlo, il secondo, il terzo. Facendo un po' così io appartengo molto, perchè c'è giusto. Uno, due, tre. Tutto giusto. Non così. La difesa è aperta e chiusa. Se è aperta, allora è proprio vetro. Ma in questo caso non si usa mai. E' tutta la difesa giusta. Uno, questa è l'apertura, quando mi hai rimetto. Poi. Pum. Questo. Ok? Uno, due, calcio. Pum. Io sono riuscito ad arrivare qui. Scivolo. Devo saltare da questo. Pam. Ok. Allora è meglio. Attaccano qui. Uno, due, e lo fai da gamba. Io te lo dico stupido. Fatto questo. Il calcio circolare qua. Questo. Uno. Questo. Di nuovo. Uno. Tutto la libertabilità. Pam. Prendo le distanze riuscite. Giro e metto il calcio girato. Ok? Tutto la libertà. Non è questo. Ma è. Che. Pum. Come fa questo. No? Ancora. Pum. Pam. Questi sono ottimi. Allora, comunque lui dopo questo baggaggio sinistro. Pum. Cercami solo di più. Pum. Pam. Pum. Pam. Uno. Due, sempre perché io da qui. Ma non vado in là. Non vado in là. Così semplice. Ottimo. Così. Riveliamo piano e cammino. Controllo. Pam. Entro e prendo le stelle. Ora l'importante è che vado in là. Non metti la gamba dietro come per fare sognare eh. Sì. 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 Ok. Io prima ho un bel calcio. E così. Un apposto. Oppio passo. E devo andare a prendere il prezzo bene su. Sì. E poi mando il piede avanti. E lui fa questo. Perfetto. Eh? Vedete? Sto già qua. Ma ora sbarco il calcio. Il calcio è di senza potere. Punti. Io mi sono pensato a tirare a porta e il calcio sta più già. Ok. Da ripigliarsi giù. E portate il doppio passo. Se sto qui ci sta che lo proietto. Ma non è la stessa cosa. Perché se lui possa alzare il piede. Il tempo c'era male. Un gruppo in niente. Se lo metto qui. Pam. Ottimo. Ok. Il calcio è all'interno. Io scendo giù dalla gamba. Praticamente già la conosciamo come questa. Sì. Quindi io mi alzo un po'. Aspetta. Alzo un po' appena. Ecco. E poi poi indietro con la gamba. Ok. Che la gamba quando io sono qui la porto qua. L'unica differenza è quando si era fatta per così ad esempio. Alza. Si andava avanti col peso. Esatto. Ma questo cascava no? È la stessa però. Io posso la gamba. Ecco. Io posso la gamba. Ok. 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 Così si aggina. Ok. Via. Un. Pam. E là. E là. Questo. Come il suo comando si scende così. Sì. Ok. Sì. Boom. Pam. Ecco. Ancora. Sì. 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 Pam. Pam. Boom. Tadena così. Tira abbastanza. Ok. Così. Ancora. Ok. Tadena di distanza. Boom. E questi movimenti di abbassamento no? Si. Dopo i ritmi. Lui lo mettiamo al ritmo invece. E' importante perché se non ti fa questo no? Lui ogni volta deve recuperare un termine di reazione perché in qualche modo il corpo viene toccato. Mi do. C'erano. Ecco. Distanza è importante. Lui è a tasca. Se io con questo no? C'erano i vicini su mano? Io ho già addosso con lui. Il suoramento è tutto. Qui. Pam. E io entro. Eh? Qui. Pam. Boom. Adesso prova qui. Am installito. Avessimo. Ti Latino.